Allora, il lavoro crea il futuro. Per me è un titolo che è bellissimo perché non c'è niente di più reale, nel senso che nel momento in cui io trovo un lavoro inizio a pensare a un futuro. Il problema è che secondo me deve essere l'auspicio dei prossimi quattro anni che noi portiamo avanti come sindacato, perché la possibilità di poter avere un lavoro che dia un futuro non è una cosa scontata. Anzi, oggi è abbastanza complicato perché nel momento in cui vado a lavorare spero di avere un futuro, un posto di lavoro dove comunque ho delle condizioni normali, ma mi trovo davanti a delle condizioni che non sono prettamente normali. Anzi, ho degli orari complicati, mi fanno lavorare la domenica, ho una situazione dove vado a lavorare o la mattina presto o la sera tardi, o nel momento in cui ho dei figli dovrei avere dei part time ma mi fanno fare le chiusure o le domenica mattina. Ho una condizione di lavoro che non è quella che in teoria dovrei avere. Abbiamo un problema che non è collegato con la necessità della vita dei lavoratori. Io ho dei diritti ma questi diritti vengono stravolti oggi per poterli portare poi solo e esclusivamente all'esigenza del mondo del lavoro e dell'azienda. Questo secondo me è un grosso problema. Allora, benvenga, anche perché è bellissimo dire che il lavoro crea futuro. Io ci credo perché sia a 20 anni che a 50 nel momento che ho un lavoro inizio a pensare al mio futuro. Nel momento che non ho il lavoro non riesco a pensare al futuro. Secondo me non c'era titolo più azzeccato e però sta a noi nei prossimi quattro anni portare avanti questa cosa. Come portarla avanti? Sicuramente cercando anche di aggregare, come ha detto Cristian, segretario, di avere più coesione tra le categorie all'interno della Camera del Lavoro perché è facile dirlo. Ma non sempre questo accade anche perché noi dobbiamo tutelare i lavoratori. A volte ci dimentichiamo, un po' per egoismo lo dico per primis, a livello di categoria voglio tenermi il mio iscritto ma non è così perché noi dobbiamo tutelare i lavoratori sia che sia da una parte che dall'altra. Il nostro scopo è quello della Cigelli di migliorare la qualità della vita dei lavoratori in tutti i campi e ritengo che sia opportuno cercare di far sì che questa parola abbia una realtà. Si parla del diciannovesimo congresso provinciale della Camera del Lavoro, ne abbiamo fatto uno quattro anni fa che era il diciottesimo che ha passato la storia, bene, male, non entro in questo. Ha scritto sicuramente una pagina della storia della Camera del Lavoro di Reggio Emilia. Oggi secondo me ne scriviamo un altro pezzo importante perché comunque abbiamo una condizione totalmente diversa. Fortunatamente ci siamo arrivati grazie anche allo sforzo di tutti perché ritengo che secondo me tutti quanti ci abbiamo messo del nostro, dobbiamo continuare a migliorare questa condizione per poter avere sicuramente un futuro anche come Camera del Lavoro. La Camera del Lavoro di Reggio Emilia a livello nazionale ha sempre segnato un punto. Non a caso oggi abbiamo dei gruppi dirigenti a Roma dove c'è una buona parte di Reggio Emilia, ne diciamo due, uno è Maurizio Landini qui presente, Gino Giove, che sono usciti fortunatamente anche dai percorsi a Reggio Emilia. Quindi secondo me dobbiamo continuare a essere anche consapevoli di quello che è l'importanza della Camera del Lavoro di Reggio Emilia e darci da fare perché questo continui sia sul mondo del lavoro che anche a livello sindacale. C'è il continuare a dare questo valore aggiunto che io ritengo sia un valore aggiunto all'interno della CGL e non dobbiamo pretendere di essere i primi ma sicuramente cercare di migliorare e tornare a quello che precedentemente eravamo e siamo stati e lo saremo anche nel futuro. Grazie. Grazie. Grazie Alessandro.